Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta moretta al caffè light. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, zucchero, cacao amaro, caffè espresso amaro, aroma di mandorla, acqua e lievito. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, l'amido di mais, il cacao amaro e il lievito. Redazioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Aggiungiamo il caffè amaro, l'acqua e l'aroma di mandorle. e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 160 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta amoretta il caffè light. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!